Sono di Ivrea, sono nella chiesa di San Gaudenzo, una bellissima chiesa barocca, un grande contenitore d'arte per presentare un artista sui generis che ha avuto una vita molto travagliata e di cui ho scritto una biografia romanzata. Pietro Augusto Cassina, il protagonista di questo romanzo, che da bambino è stato rinchiuso nel carcere Cesare Beccaria e poi da adulto è stato ricoverato per nove anni al manicomio di Collegno. Grazie all'arte e alla letteratura di cui lui si nutriva come autodidatta, è riuscito a superare i gravi disagi e i tormenti della sua vita travagliata e a farsi che la sua vita avesse un aspetto di redenzione. Io sono Giovanni Cordero, sono un critico d'arte, uno psicologo e ho cercato di interpretare questa figura artistica, letteraria con uno spirito, con un accento anche psicoanalitico e credo che altrettanto ho portato nell'altro mio libro che è invece l'impronta di cioccolato, un libro che racconta anche qui di un'artista autodidatta che vive nelle montagne del Cuneese e che incontra una maestra che sarà poi lei che porterà alla ribalta i suoi disegni e la sua ricerca artistica.